Mentre si inseguono le polemiche, i botti a risposta sullo spostamento della sede degli uffici del Genio Civile dall'Aquila a Pescara, con i consiglieri di opposizioni che rivendicano la difesa del territorio, continua a non essere affrontato alla radice quello che è diventato un vero e proprio collo di bottiglia, non soltanto per i cantieri della ricostruzione, ma per l'edilizia in generale in tutta la regione. A ricordare al mondo della politica e agli amministratori locali che il Genio Civile continua a essere da anni un ostacolo, è Ezio Reinaldi, delegato del settore ricostruzione per Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, che come tanti imprenditori vive sulla sua pelle le conseguenze della riforma del Genio Civile attuata nel 2015 dalla regione Abruzzo. Per realizzare un capannone di un'attività artigiana neanche tanto grande ci vogliono tre mesi. Che cosa succede al Genio Civile? Questo è un problema che sta diventando sempre più grave purtroppo. Oggi viviamo sicuramente il problema della ricostruzione, del sisma che abbiamo subito e sicuramente ha rallentato molto gli aspetti della ricostruzione delle case già di per sé. Poi se ci mettiamo pure che oggi, dovendo dare lavoro alle persone, dovendo ricostruire un tessuto economico e produttivo, quei pochissimi che hanno ancora voglia e volontà e possibilità di fare una nuova attività, un ampliamento, subiscono questi ulteriori aspetti burocratici, quali sono i rallentamenti del Genio Civile che si aggiungono a una situazione già di per sé grave. Sicuramente la regione avrebbe dovuto adeguare almeno il personale alla situazione, ma ciò non è avvenuto e questo ha portato all'Aquila in particolare un ulteriore aggravante. Abbiamo cercato nell'anno passato, anche con l'Ance, di risolvere qualche problema mettendo anche un balzello ai costruttori, agli imprenditori. Noi sappiamo che nel decreto sblocca cantiere è stata fatta una richiesta ben specifica ma bocciata. Sì, non qualche giorno fa, poco tempo fa, abbiamo richiamato ancora una volta l'attenzione a questa cosa che poteva essere risolta grazie a chi aveva portato avanti un emendamento allo sblocca cantieri. Tornando al deposito, io non capisco perché, tra l'altro, come un medico, dico, fa una ricetta e viene portata in farmacia per un paziente. L'ingegnere che altrettanto ha avuto una laurea e ha per rendere delle proprie responsabilità deposita un suo calcolo al Genio Civile, deve subire un controllo di altri ingegneri. Questo mi sembra di per sé una cosa assurda. No, il tema non è la sede, non è anche perché mi sembra stato anche malposto, secondo me, l'argomento. Il problema è che questo organo non funziona come deve. Quindi se la Regione, negli organi politici tutti e la nostra anche politica locale affronta il problema in maniera alla radice, abbiamo forse affrontato e risolto qualcosa di concreto. Grazie. 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 Grazie.